Nuovi acquisti e cessioni per Lisernia nella settimana pre-derby. Il club bianco celeste ha bilanciato le entrate con le uscite per rispettare il budget fissato ad inizio stagione. Tra le new entry, Damiano Manzillo, centrocampista classe 1986, per lui si parla di un ritorno, infatti ha già vestito la casacca di Lisernia nel campionato 2011-2012. Per l'attacco è stato tesserato Pasquale Di Gregorio, l'esterno classe 1998, girato in prestito dal basso Girardi. È molisano il nuovo portiere, il larinese Giovanni Silvestri, classe 95, giunto in prestito dalla Cliternina, con trascorsi in D, con Boiano Termoli e Civitanovese. Hanno lasciato il gruppo il portiere Lorenzo Del Rossi ed il centrocampista Luigi Rega. A proposito della squadra, stop di tre giornate per Mingione e un turno per il portiere Capozzi. Entrambi i giocatori sono stati espulsi domenica durante la gara contro il Monticelli. Ma a proposito della formazione bianco celeste, ai nostri microfoni il difensore Ruggeri. L'atmosfera è un po' tesa, un'area un po' tesa perché comunque non si disputa questa partita da un sacco di tempo, un sacco di anni. Quindi noi ci teniamo a fare una grande prestazione davanti al nostro pubblico. Già da ieri stiamo dimostrando sacrifici nel campo per arrivare a domenica per fare una grossa prestazione. Ecco, al di là della prestazione del derby, in cui sia voi che il campo basso ci tenete a far bene, perché come hai detto tu è una partita che manca da tanto tempo, sentita da entrambe le città. Voi venite dalla sconfitta di domenica scorsa e c'è anche tanta voglia di rimediare a questo. Guarda, per parlare della sconfitta di domenica scorsa la vogliamo dimenticare subito perché è stata una partita un po' strana. Al settantesimo stavamo 0-0, abbiamo creato tante palle goal non concretizzate. Poi si sa che il calcio è fatto di episodi, quindi è successo quello che è successo. Per quanto riguarda la partita di domenica, noi al di là della partita, tra virgolette, tra città, è normale che ci teniamo a fare bella figura. Però noi sappiamo benissimamente che per noi valgono sempre i tre punti. Fare una grossa prestazione e portare i punti a casa vuol dire passare un bel Natale e andare avanti per il processo del campionato. Grazie.